Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo una partita di Chigurin, una partita molto vecchia, inizio 900 se non sbaglio, in cui vi spiego alcuni concetti posizionali da giocare contro il gabbetto di donna. Cominciamo subito, ma innanzitutto se non l'hai già fatto ti chiedo di iscrivervi a YouTube cliccando qui sotto e attivando la campanella per non perderti le notifiche. C4, ok sembra un'apertura inglese ma in realtà vediamo che dopo poche mosse rientriamo in un gabbetto di donna. C4, cavallo F3, C6, quindi struttura semislava, E3, cavallo D7, alfiere D3, alfiere D6. In realtà qui la mossa corretta, la principale è D per C4 per far perdere un tempo all'alfiere che si è già mosso, ma ovviamente va benissimo anche alfiere D6, non è un errore grave. Rocco a rocco, E4, D per C, alfiere per, quindi viene alla fine ritardato questo cambio di pedoni, E5. Dunque è importante ricordare sulla semislava o comunque in qualsiasi apertura in cui vi ritrovate in questa struttura peonale, perché in questo caso della semislava non magari vi ritrovate con la scandinava, con la karokan, con la francese, sono tante le aperture in cui una struttura peonale del nero disposta in questa maniera. Quindi con tutti i pedoni praticamente a casa, tranne C6. In questo caso è importante ricordarsi che bisogna creare una spinta di rottura, che sia E5 o C5. Bisogna contrastare il centro, perché il bianco ha un grandissimo centro, addirittura a tutti e due pedoni centrali in posizione E4 e D4. Quindi bisogna contraattaccare, per evitare che il bianco possa ottenere una iniziativa, possa ottenere il vantaggio di spazio e quindi poi ridurvi una posizione passiva, difensiva e finire con una sconfitta immediata o inevitabile. Quindi come farlo? Con le spinte o E5 o C5. In linea generale, se avete apprezzato l'alfe in D6, significa che potete fare E5, con l'alfe in E7 è meglio C5, però ovviamente vi sono anche delle eccezioni. E5. Quando fare E5? È meglio giocarla quando il bianco ha già mosso il pionino in E4, perché in questo modo avete un punto di attacco, che è appunto questo pionino in E4. Se invece il pionino fosse in E3, allora sarebbe più difficile attaccarlo. Al filo di G5, donna in E7, per difendere il pionino in E5, Re H1, perché Re H1? Perché il bianco sta preparando un'avanzata, un'avanzata con F4, sempre chiedervi il motivo della mossa del vostro avversario. Quindi Re H1, ok, ma qual è il pionino del mio avversario? Perché ha giocato questa mossa? In questo modo, insomma, vedete che ci sono minacce immediate, quindi se vi sta minacendo un pezzo, vi minaccia un tatticismo, quindi lo capite subito. Ma soprattutto cercate magari di evitare il pionino dell'avversario. Torre in D8, qui evitare F4 risulta abbastanza difficile, però una volta che il neo ha capito che il bianco giocherà peone per, cavallo per, cavallo per, al filo per F4, allora posiziona una torre in D8. In questo modo, dopo la presa del pionino in E5, vi sarà un attacco di scoperta contro la regina. Regina che ovviamente si sposta in C2, H6, al filo per, donna per F6. Attenzione qui perché il bianco ha ceduto la coppia di alfieri. Questo è un aspetto molto importante. Nel finale sappiamo che la coppia di alfieri è un vantaggio. D per E5, alfieri per E5. Interessante qui il fatto che il neo cattura di alfieri e non di cavallo. Io intuitivamente avrei catturato di cavallo, sinceramente, con l'idea di mantenere la coppia di alfieri. Probabilmente dopo collo per E5, alfieri per E5, F4, il bianco ha un bel gioco. Infatti qui alfieri per F4 ovviamente non si può giocare perché si rischia troppo con questa inchiodatura. Vi è magari cavallo E2, non so se G3 funziona, però comunque è un rischio. Quindi non penso di giusti alfieri per F4. Qui probabilmente o si cede la coppia di alfieri nuovamente con alfieri per cavallo, o se si vuole mantenere con alfieri C7 arriva E5, il bianco sta un po' meglio. Quindi è corretto catturare di alfiere e in questo modo il nero ha un eccellente gioco nell'ala di re. Infatti subito tutti i pezzi possono arrivare in soccorso nell'ala di re. Torre in D1, torre in E8, alfieri in E2, alfieri C7, ritirata dall'alfiere. Perché? Perché si vuole lasciare una casa libera per il cavallo E5. E' il cavallo che vuole andare in questa casa, è la migliore casa per il cavallo e proprio E5. Cavallo E1, cavallo E5. Perché cavallo E1? Quindi sempre chiedersi il perché delle mosse. F4, ovviamente il bianco vuole giocare F4 e può giocarla. Quindi F4 viene giocata, ma a questo punto il cavallo salta in G4 e comincia ad essere fastidioso. Attenzione qui perché si minaccia cavallo in E3. Comunque è un cavallo in quadro traversa, quindi molto avanzato. Può essere fastidioso per il bianco. E dunque l'alfiere si cattura il cavallo, si cattura il cavallo perché appunto avevano diverse minacce. Ma in questa maniera il nero sta per entrare in un finale interessante con una coppia di alfieri. E inoltre, quale può essere un punto di attacco per il nero? Il pelone E4. Quindi quando qui, magari in una partita simile, dovete pensare ad un piano, cercare di trovare i punti di attacco. Ovviamente qui il pelone E4 potrebbe essere un punto di attacco, quindi magari creare situazioni in cui create un attacco verso questo pelone. Non so, donna G6, raddoppiare le torri. Possono essere diverse idee, o alfi H5 e alfi G6, anche se analizziamo sempre, magari F5 e E5 possono essere mosse che portano minacce ai nostri pezzi. Un altro elemento ovviamente sempre presente sono le colonne aperte. Quindi qui siamo in finale, vi sono le torri, la colonna D va conquistata e dunque Cigurin giocatore a D8. Donna F2, torre per D3, cavallo per D3. Quindi cambio delle torri perché probabilmente qui Cigurin avrebbe dato vantaggioso questo finale. E sono assolutamente d'accordo in quanto la coppia di alfieri con meno pezzi in gioco si farà sempre più sentire. Donna G3, alferine E6, E5 attacca la regina, donna F5, cavallo in C5, attenzione qui perché vi è un tatticismo. Infatti il pelone F4 è inchiodato, se vi va come sempre mettete pausa al video e cercate voi stessi di trovare la combinazione corretta. Un allenamento ottimo sarebbe se riusciste senza muovere i pezzi a analizzare tutta la variante, magari con foglio e penna scrivete le mosse o anche nel cellulare. E in questo modo cercare di allenarvi a muovere i pezzi nella vostra mente. Quindi senza muovere i pezzi ma cercare di andare sempre più a fondo nella variante. Qui l'idea è che essendo il pelone F4 inchiodato il neo può catturare il pelone E5, infatti il bianco non può ricatturare. Però bisogna analizzare che succede dopo cavallo per E6. Quindi alfiere per E5, cavallo per E6. Ovviamente non si può catturare di regina, se no il bianco catturebbe l'alfiere. Si cattura di pedone, qui Maroxi ha giocato donna in E3. E a questo punto una volta che non si ha più la coppia di alfieri, si è tramutato il vantaggio di coppia di alfieri in un pedone secco in più. E allora il nero ovviamente ha tutto l'interesse a semplificare il gioco, quindi entrare in un finale con meno pezzi possibili. Quindi alfiere per cavallo, b per alfiere. Si potrebbe catturare anche di regina, probabilmente Maroxi ha, ok c'è un esatticismo, anche qui qual è il esatticismo? La prima traversa è debole, è difesa solo dalla torre, quindi segue donna per F4. La torre deve difendere la prima e quindi non può catturare la regina. Se catturasse che succederebbe? Torre di 1 matto. Quindi ovviamente b per c3, b6, perché b6? Perché si vuole difendere il prima e la 7. H3, torre d3, si sfrutta la casa d3, la casa debole, difesa dalla regina. Quindi la torre comincia a essere un pezzo di attacco. Attacca la regina e attacca il pedone. Torre per c3 e qui il finale diventa veramente complicato per Maroxi. Infatti vi sono due pedone di svantaggio per il bianco, ma soprattutto la torre e la regina nera sono una posizione più attiva rispetto ai pezzi del bianco che una posizione passiva. Il nero minaccia la torre c2, conquistando la seconda, attaccando pedone e regina, ma soprattutto anche un eventuale attacco in futuro verso il poneggi 2, magari anche eventuali minacci di matto. Quindi posizione assolutamente vantaggiosa per il nero. Donna a6, si prova una sorta di controgioco, quindi si attacca il pedone a7, magari eventuali anche scacchi. Donna in d5, il nero si disinteressa del pedone in a7, d'altronde qui, attenzione perché vi è una forte minaccia. La minaccia è torre per h3 e scacco a re. Infatti il pedone g2 è inchiodato, è inchiodato perché vi è il re dietro, quindi non può catturare la torre. E qui per evitare la presa in h3 il bianco deve giocare a re g1 e a questo punto il nero gioca a torre in c2 e ora la minaccia è il matto in g2. Come vedete ogni mossa Cigurin crea una minaccia, non lascia scampo al bianco, non lascia il tempo di sistemare torre e regina ma di creare un contrattacco, un perpetuo. Perché no? Immaginate se la regina bianca riuscisse ad arrivare in e8 e la torre magari in g3 e quindi si creano degli scacchi. Ma non vi è tempo, ogni mossa vi è una minaccia e quindi il bianco deve pensare ogni volta a come parare il matto, come difendere il pedone, insomma come difende tutte le minacce. Torre in f3, donna di uno scacco e ora non vi è più modo per difendere tutto. Infatti su re in h2 segue banalmente donna per f3 perché il peneggitore è inchiodato. Se invece il bianco gioca torre in f1 allora si può giocare donna di due e il matto è imparabile. Non vi è modo per difendere il peneggitore, ovviamente torre f2, donna e due sono da escludere e sono finite le mosse per difendere il matto. Vi è uno scacco a re? Assolutamente sì, ma penso che dopo re h7 non vi sono più scacchi e quindi il matto arriva alla prossima. L'ultima rimanente è donna f1 e a questo punto come può vincere il nero banalmente può cambiare la regina perché qui sia sulla prossima di torre sia sulla prossima di re segue torre per a2 e ovviamente con tre pedoni di vantaggio e tre pedoni passati è impossibile non vincere questa partita. I pedoni vanno da soli a promozione e quindi la partita si conclude in questa maniera, in questa posizione, ma Roxy ha abbandonato. Una partita molto istruttiva, molto interessante soprattutto dal punto di vista posizionale ma potete sapere nei commenti che ne pensate e soprattutto cosa volete vedere nei prossimi video se vi interessano queste partite in cui mi soffermo molto sulla strategia posizionale e poi ovviamente sforza sempre un po' di tattica o se volete magari partite dove vi è un attacco più diretto o anche partite dove vi sono finale interessanti. Insomma ditemi tutto nei commenti e io leggerò e prenderò spunto. Lasciate un like se vi piacciono il video e ci vediamo alla prossima. Vi lascio qui di video in sua impressione. Ciao!